Il Consiglio del Consiglio Il Consigliere provinciale e comunale Cristian Continelli di Fratelli d'Italia, benvenuto Cristian, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, sono molto fiero di essere qua, mi fa piacere fare una chiacchierata, soprattutto parlare politica perché diciamo che è la mia seconda pelle. E' la tua passione, quella forse che porti avanti da tantissimi anni, sei stato consigliere comunale dell'opposizione, in questa tornata sei stato consigliere di maggioranza, ci sono stati 5 anni travagliati, 3 giunte sostenute a volte in maniera diciamo al 100%, altre volte al 99%. Che esperienza intanto è stata al fianco di Gianfranco Coppola, dalla campagna elettorale scorsa ad oggi? Tenuto presente che io non faccio mai un ragionamento di uomini, ma faccio sempre un ragionamento di idee. L'esperienza con Gianfranco Coppola, al pari dell'esperienza con Domenico Tanzarella, sindaco, per me che amo la politica è stata un'esperienza fantastica. Perché chi ama la politica, non tutti coloro che amano la politica hanno la fortuna poi di siedere in un Consiglio Comunale o in un Consiglio Provinciale. Io sono stato eletto due volte, una volta al Consiglio Provinciale, penso di ritenermi più che soddisfatto. Ho inseguito sempre quello che era la mia passione, non ho mai chinato il capo, tant'è vero che quando nel PDL si cominciarono a rompere le cose, io sono stato eletto la prima volta paradossalmente col PDL, un partito che non mi appartiene, quando si cominciarono a rompere le cose io andai via e qualcuno disse se voi siete dei pazzi sarete annientati, sparirete poi neanche a farlo apposta, noi siamo stati rieletti e diciamo che il nostro percorso è stato un percorso proprio di passione. Quindi essere stato Consigliere Comunale per dieci anni circa e Consigliere Provinciale per me è un grande risultato e sono felicissimo di tutte le esperienze e di tutti i consensi. Nonostante ci sia stata una parentesi con il PD che è stato vostro alleato per due anni sostenendo una giunta tecnica, sei soddisfatto comunque di quella parentesi anche? Certamente, non si rinnega mai quello che si è fatto, del resto questa città viene fuori da, questo tipo di accordo viene fuori da un accordo più a monte che era quella famosa giunta di salute pubblica che non ci fu solo nella città bianca, la stessa esperienza anni dopo si è rifatta in provincia dove l'MSI e il Partito Comunista dell'epoca sostennero anche il gastroenterologo Peppino Santoro, presidente della provincia. Ci sono state tante tematiche che avete affrontato in questi cinque anni, forse l'ultima quella di attualità che volevi portare alla conoscenza dei cittadini di Ostuni è forse quella più travagliata che riguarda l'ospedale civile che oggi potrebbe perdere un altro tassello importante che era stato ottenuto qualche anno fa quando c'erano questi quattro posti di osservazione di cardiologia e quattro posti di osservazione di pediatria. Oggi però parliamo della cardiologia che potrebbe, notizia proprio di questa mattina, potrebbe perdere una pedina fondamentale all'interno del nosocomio di Ostuni. Non solo la cardiologia, la sanità è tutto un quid. Diciamo che bisogna essere fortunati, bisogna affidarsi nelle giuste mani, ma in questo momento in Puglia è davvero davvero difficile. Ma la provincia di Brindisi, più di tutte le altre, ha patito questa assenza di giusti posti letto, perché se è vero che erano 2,7 ogni mille abitanti, non vedo perché noi siamo sotto quella soglia. Non riesco a comprendere perché, o meglio riesco a comprenderlo, ma lo tengo per me, perché poi se vado oltre dovrei diventare volgare, dovrei arrabbiarmi, dovrei dire alcune cose di alcuni politici che sono veritiere, ma che poi chiaramente non posso andare a comprovare davanti a un giudice, perché poi sappiamo che i politici amano difendersi con le denunce per diffamazione quando sanno di avere torto. Ma davvero è impensabile tutto quello che è accaduto alla nostra sanità, è impensabile quello che sta accadendo negli ospedali. Qualche settimana fa, una sera, anzi forse una settimana fa, una sera un mio amico del 118 mi chiama e dice siamo da un'ora nell'ospedale di Francavilla Fontana, abbiamo un malato sulla barella, sulla lettiga, non c'è una barella e nel frattempo l'ospedale di Ceglia, cioè la postazione del 118 di Ceglia è rimasta con le auto smedicalizzate e il medico era lì con gli operatori del 118 a grattarsi la pancia, perché nessuno riusciva a trovare una barella dove trasportare questo male. Devo andare più indietro. Niki Vendola raccontò il libro dei sogni a una puntata prima delle elezioni regionali in cui venne eletto, era una puntata di Porta a Porta, Raffaele Fitto che non è il mio tipo di politico preferito, perché viene dalla democrazia cristiana e io ho una repulsione per gli uomini di chiesa innanzitutto, perché devo dire le cose come sono, io sono considerato uno che ha delle buone idee ma che le espone male, sinceramente non me ne frega nulla, per me gli uomini di chiesa sono quanto di peggio questa società abbia partorito e quindi la democrazia cristiana, quel modo di fare così di cui oggi noi paghiamo tutte le conseguenze è lontano anni luce. Però Raffaele Fitto in quel momento ebbe ragione, anche consigliato da uomini che erano capaci, tra cui il mio ex collega di partito, l'ex assessore Michele Saccomanno, l'ex senatore, che praticamente disse, Michi se noi chiudiamo questi ospedali oggi probabilmente salviamo la sanità pugliese, Michi Vendola con le false promesse disse che lui non avrebbe chiuso neanche l'ospedale, l'ha fatto per il primo quinquennio, oggi stiamo pagando quelle conseguenze in maniera drammatica, è molto simile alla stessa storia che accadde in quegli anni in cui il pentapartito governava l'Italia e diceva mandiamoli in pensione con gli scivolamenti, a 38 anni, 6 mesi e un giorno si mandava in pensione la gente, l'MSI diceva fermi perché parete un disastro, il disastro lo viviamo sulla nostra pelle oggi, quel disastro delle promesse del libro dei sogni di Michi Vendola noi lo stiamo pagando oggi, tutti noi vorremmo un ospedale per ogni città, per ogni piccolo comune, oggi la sanità chiaramente non può più essere così, però in questo momento siamo in un disastro assoluto. Ma visto che parliamo del nostro ospedale facciamo una domanda di attualità al consigliere Continelli, tante sono state le promesse intorno al nostro ospedale ma secondo te potremmo mai vedere realizzata quell'ala che giace lì ormai da tempo? Come la vedi? Io ho l'acqua frizzante, se mi posso permettere. Io sono un politico anomalo in questo, dico le parolacce, mi arrabbio facilmente, anzi dico mi incazzo facilmente, non amo le promesse. Io penso che la situazione dell'ospedale di Ustuni in questo momento sia molto molto difficile da portare avanti, una battaglia molto difficile da portare avanti. Abbiamo commesso migliaia di errori, tutti, tutti, io il primo come tutti gli altri perché poi altrimenti raccontiamo sciocchezze, forse avremmo dovuto pensarlo in maniera diversa, non avremmo dovuto seguire quel trasporto campanelistico, mio figlio deve nascere Ustuni piuttosto che deve nascere qui. Alle volte ci vuole praticità e meno promesse, noi abbiamo vissuto di promesse in questi anni, in questi ultimi mesi devo dire che mi sono un po' allontanato dalla politica, è stata una scelta volontaria, proprio in virtù del fatto che il politico medio promette, 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 io non sono quel tipo di politico, grazie a Dio non ho mai promesso e forse anche per questo mi trovo bene, non ho voglia di promettere, ho voglia di fare le battaglie, ma per fare una battaglia di quel tipo questa città deve equalizzarsi intorno a un uomo che non sono io probabilmente o che non so neanche chi possa essere, che nel 2020 dovrà mandare in regione, al prescindere dai colori politici e che dovrà essere un uomo distante dagli interessi privati e che dovrà fare l'interesse della città, chiaramente parliamo dell'uomo nuovo, probabilmente ancora dobbiamo inventarlo, però di questo ha bisogno questa città, dire da sindaco, da consigliere comunale, da consigliere provinciale, da assessore di un comune come voi, cosa hai fatto per la sanità ustunese? E dire noi faremo, faremo, vuol dire prendere, scusate sarò colorito e volgare, ho detto prima, vuol dire prendere per il culo la cittadinanza, io non sono abituato, vengo da una storia politica diversa. Quindi credi che ci vorrà un consigliere regionale per la città di Ustoni che abbia gli attributi? Un consigliere regionale che sia distante dalle logiche dei partiti, distante dalle logiche degli interessi di alcuni, distante dai gruppi politici intesi come blocchi di potere, è una cosa complicatissima ad oggi, se devo dire una cosa agli ustunesi, dobbiamo, essere molto, molto, molto fortunati. Si completa quest'ala sì o no secondo te? Beh, pare di sì. Il problema è, ne parlavo oggi in cardiologia con alcuni amici, perché sono andato a fare una visita cardiologica e mi dicevano di questa problematica dei medici che non ci sono per la malattia, perché non si riesce chiaramente a dare un servizio decente, poi gli esseri umani non sono macchine. Noi da un po' di tempo a questa parte abbiamo cominciato a pensare, a massacrare gli esseri umani dipendenti, nessuno è una macchina, nessun medico può lavorare 12 ore senza tutti i sosta, tutti abbiamo bisogno di tornare di sosta, tutti abbiamo bisogno di riposare, per quanto si possa amare il proprio lavoro. Allora che cosa succede? Ho fatto lo stesso paragone, perché mi ha detto si completa l'ala, si completa l'ala, forse sì. Lo stesso paragone è con le province, io vorrei che le province tornassero a essere enti di primo grado. Io non voglio, non mi candidano, anzi annuncio che non mi candido più alla provincia, perché io non voglio essere più eletto dai miei consiglieri comunali, per quanto io penso di aver svolto un po' il lavoro e potrei anche crescere un po' a livello proprio di voti, ma non mi candido per una ragione, perché io vorrei essere eletto dai cittadini, vorrei che l'ente potrebbe tornarsi un ente di primo grado, anche perché in queste condizioni, senza i trasferimenti, le scuole e le strade, per la provincia che non è un ente impositivo, non ha la possibilità di realizzare chissà che, e allora lo stesso ragionamento tornavo all'ospedale, facciamola la nuova, ma non abbiamo, abbiamo tutti i macchinari più belli, tutto quello che la nuova tecnologia ci possa donare, ma poi non abbiamo, come non li abbiamo in provincia, gli uomini perché questa nuova ala funzioni, allora a cosa serve? Stiamo realizzando, stiamo buttando ulteriori soldi dei cittadini? Oppure probabilmente la ASL ha compreso che a questa provincia servano questi posti letto, ha compreso che quindi servano delle strutture, ha compreso che quel bacino che va da Fasano fino a Brindisi, comunque specie in estate diventa esplosivo, che la strada per arrivare a Francavilla Fontana dalla costa è molto complessa, truttosa e trafficata, è difficile arrivare, probabilmente nel prossimo futuro, io me lo auguro che i prossimi governanti regionali o anche questi hanno pensato che l'ospedale di Ostuni anche come posizione centrale in questo scacchiere a due passi, alla 379, possa diventare di nuovo un nosocomio di eccellenza e io me lo auguro con tutto il pure e lo auguro a tutti perché questa è, ad oggi però, resto con i piedi di piamba, proprio in virtù del fatto che le promesse servono a poco, serve la realtà e io questa realtà la vedo con te. Veniamo invece ai temi di attualità, invitiamo il Consiglio a continuare a prendere il caffè perché se no si raffredda l'acqua si potrebbe sgasare. Io vorrei prenderlo, però bevo un goccio d'acqua perché il caffè ne ho presi troppi. No, quindi no, veniamo alla stretta attualità, veniamo a parlare della pagina politica che riguarda la nostra città, siamo alla vigilia di una nuova campagna elettorale, vedremo quali saranno i toni già dal prossimo futuro, ormai ci siamo, molti partiti del centrodestra hanno annunciato che faranno le primarie di coalizione, si dovrebbero svolgere il 10 marzo, intanto dall'altro lato il sindaco di Ussuri Gianfranco Coppola ha annunciato la sua ricandidatura come primo cittadino, dall'altro lato anche nuove forze politiche o forze politiche del passato si mettono insieme per ritornare a parlare di questa cosa. Voi avete espresso con una nota stampa che farete le primarie, quindi sosterrete o l'avvocato Zaccaria che ha già detto che sarà candidato o probabilmente, non ci è arrivata una nota ufficiale, l'altro candidato delle primarie dovrebbe essere l'attuale assessore al turismo Vittorio Carparelli, indicato dal gruppo di Direzione Italia e da altri movimenti che sono vicini. Emanuele Zaccaria ha già detto che non parteciperà alle primarie e che comunque la Liga sosterrà questa strada delle primarie. Come si stanno svolgendo queste consultazioni in centro-destra? Perché avete deciso di non riconfermare come candidato sindaco Gianfranco Coppola? Allora faccio una premessa. Chiariscici le idee. Faccio una premessa. Io faccio parte dei Fratelli d'Italia, il primo partito che in Italia da destra ha invocato le primarie. Noi nasciamo perché Giorgia Meloni raccoglie le firme da noi consiglieri comunali, il PDL brucia le primarie e noi usciamo dal PDL in rottura. Guido Grasetto, Giorgia Meloni e Ignazio Larossa escono e formano questo nuovo soggetto politico. Ad oggi io chiaramente quando mi è stato paventato come in tutta la Puglia sta accadendo Sarebbe stato anomalo dire no. Detto questo io non ho deciso di non confermare Gianfranco Coppola. Assolutamente no. Io invito Gianfranco Coppola, e questo lo faccio pubblicamente, a partecipare alle primarie. Come sta facendo Franco Landella, sindaco di Foggia uscente di Forza Italia che si è sottoposto a partecipare alle primarie. In questo scenario, con il centro-destra diviso, io personalmente alle primarie andrò a votare, personalmente almeno in questo momento deciderò di votare scheda bianca. Perché un conto è le primarie come scelta, un conto è fare una scelta su un candidato sindaco. Perché dico questo? Perché io personalmente che sono una persona molto leale. Ho già fatto sapere tutti, il fatto che io non mi candidi al Consiglio Provinciale è chiaramente una cartina di tornasola, stella polare di quello che sta accadendo. Se il centro-destra sarà diviso in questa tornata elettorale, Gianfranco Coppola da una parte, noi dall'altra, o comunque una parte del centro-destra e una parte dall'altra. Io personalmente, che dalla politica ho avuto la fortuna, dicevo prima di essere eletto due volte, non sono a disposizione, non sono a disposizione di candidarmi, posso tornare a casa tranquillamente, ho già fatto quello che dovevo fare, mi sento abbastanza pagato, potrò sostenere qualcun altro con la stessa, questo non significa abbandonare la politica, però diciamo che questo massacrarsi, in questi mesi, anche sui giornali, il bagno sport che stavano in famiglia, questo massacrarsi a me non piace, inoltre poi dovrei spiegare agli ostunesi come posso io sostenere Gianfranco Coppola fino all'ultimo per poi candidarmi contro, allora ci sono due cose, o io decido di andare in aula, presentare una mozione di sfiducia, essere chiaro con i miei concittadini e dire Gianfranco Coppola non mi vuole ascoltare, non vuole ascoltare quelli che sono i nostri modi di fare, allora io lo mando a casa, perché lo boccio, perché se l'ho bocciato come sindaco, lo boccio, anche Gianfranco fa un errore, nessuno di noi deve dire io non partecipo, perché chi non guarda con aspettativa, con ammirazione, con una certa felicità alle novità che portano insieme sempre il futuro, guarda al passato, non c'è nulla da fare, se Gianfranco Coppola ha deciso di guardare al passato, può anche farlo, personalmente, tutta la stima, tutta l'amicizia nei riguardi di Gianfranco con cui mi conosco da sempre, però resta un fatto, fa una scelta, io faccio la scelta probabilmente di sostenerlo fino alla fine, dopodiché non mi candido, questo è pacifico perché c'è una coerenza, se decido di non andare con il candidato sindaco che ho sostenuto fino alla fine, è chiaro che non si può giocare in questi termini, saltano le logiche della politica, non esistono le logiche della politica in questo momento, faccio anche un invito a molti, l'anno prossimo votano i 2001 che sinceramente dei settantenni o comunque delle minestre riscaldate o di tante logiche, penso abbiano davvero poco, con loro abbiano davvero poco appeal, se ne fregano praticamente, io sinceramente, uno del 2001 che mi guardo ragazzi, vede me vecchio, figuriamoci gli altri, ecco, in questo devo ringraziare l'avvocato Domenico Tanzarella che per l'ennesima volta mi ha dato una medaglia, quando mi pare, io non ascolto più interviste di politica, però mi è stato detto che non vuole, nell'estrema sinistra, nell'estrema destra, nell'estrema destra probabilmente sarei io di questa città, io lo ringrazio perché comprendo che si voglia fare un grande movimento civico che prenda tutte le aree modello emiliano e io lo ringrazio di non essere in quel calverone perché sinceramente mi troverai davvero, davvero male e poi vediamo l'amministrazione, rivendico tutte le scelte, abbiamo fatto poco, molto poco rispetto a quello che potevamo fare, però devo dire anche una cosa, quelle poche cose le abbiamo fatte quasi bene, non dico benissimo in maniera eccellente, ma quasi bene. Tra qualche giorno dovrebbero essere assegnati i lavori finalmente per il Pozzo Ortesiano negli orti peri urbani, nella speranza di vedere questa città prendere una forma e una vita diversa. La politica ormai, quella vera, ha lasciato lo spazio ai personalismi, quindi io auspicavo che ci fosse stato un grande movimento generazionale che avesse coinvolto la mia generazione, i quarantenni, anzi diciamo quelli fra i 40 e i 50 che sono rimasti assenti da questa fase politica di sviluppo e che pensando a quello che è stato e a quello che sarà questa città, con il loro apporto, avessero potuto davvero trasformarla in una città stupenda, noi siamo una città meravigliosa e abbiamo tutte le capacità per fare bene, in realtà negli ultimi anni, parlo di un decennio abbondanti, facciamo di tutto per massacrarla, in ogni senso, dal territorio alle scelte, potremmo fare migliaia di scelte buone, invece diciamo che continuiamo a non aguardare a quello che sta accadendo in tutto il mondo, per esempio noi siamo una città che soffre ancora un abbandono dei rifiuti terribili, abbiamo una città sporca di sigarette, le sigarette non piovano dal cielo, c'è qualcuno che le butta, c'è cartacce per terra, c'è qualcuno che le butta, non riusciamo a crescere proprio mentalmente, nel senso civico che non c'è neanche a chi ha molti cani e non sa dove farli andare a fare bisogno, questo l'ho notato, sulle arterie di Corso Mazzini, Corso Vittorio Emanuele. Ecco io per esempio in questo viene fuori tutto il mio essere di estrema destra, come quando mi dicono che tu, io per esempio metterei un vigile urbano in borghese, un tutore l'ordine in borghese in ogni angolo per poter multare tutti coloro che buttano la cicca, che buttano in tutta carta, che buttano la sigaretta per terra, perché è una cosa indecente. Ma credo che si faccia così l'educazione civica, cioè credo che sia… L'educazione civica dovremmo cominciare a fare nelle scuole, dovremmo tornare un po' indietro e dovremmo tornare al rispetto dei ruoli. Io se andavo da bambino, tornavo a casa e dicevo a mio padre che la maestra mi aveva sgridato, mio padre non sarebbe mai andato a urlare contro la mia maestra, ma sarebbe andato, mi avrebbe chiesto che cosa hai fatto per essere sgridato. Questa è la verità. Dobbiamo tornare un po' indietro. L'educazione civica però anche il comune, specie su quello che riguarda i rifiuti, i consumi energetici, dovrebbe cominciare a farla nelle scuole. Poi permettere questa, dare una forte mano nelle scuole elementari, sin dai bambini, per poterli… Questo è il mio sogno, una città pulita, una città con meno auto, una città più a misura d'uomo. Più smart. Sì, chiamiamola cosa, ma a me è un termine che non piace, è una città con meno food. Diciamo che… Troppo. Questa piazza è satura. Diciamo un progetto fatto bene nel chiostro, su cui tanto mi sono battuto per fare il ritorno agli alti e bassi con Gianfranco Coppola e con la Giunta e con le amministrazioni. Quando non si volevano trasferire gli uffici all'apretura, io ho puntato i piedi fino a litigare, fino a minacciare di andarmene. Perché secondo me quei soldi spesi dei cittadini che se sono convinto che sono stati spesi benissimo, andavano messi a frutto. Quegli uffici vanno tolti da quel posto, vanno tolti veramente, ma andrebbero spostati tutti gli uffici. Chiaro che chi ci sarà in futuro, mi auguro che pensi a pedonalizzare la piazza, un nuovo piano, un nuovo ordine per quello che sono le attività, perché chiaramente se la piazza è diventata un deserto d'inverno e invece è stracolmo di gente in estate, c'è un problema, c'è un problema di collegamento con la città. Quindi bisognerebbe studiare un piano del commercio abbastanza serio per capire perché, per come e dove correggere. Non è una cosa semplice, però io sognavo una generazione di quarantenni, di cinquantenni che poteva essere anche schierata senza simboli di partito, che avesse trovato una sintesi e fosse andata al governo della città, come per esempio è accaduto a Francavilla Fontana. C'è un giovane sindaco, con tutte le specifiche. Io pensavo che ci potesse essere, ma per dare una… ecco, diciamo che io sono distante dalla sede del consigliere comunale, l'ho già fatto il consigliere comunale, ormai diciamo che mi sono allontanato da questa figura. Sognavo invece di dare un apporto propositivo, di essere ascoltato, in realtà in questa città noi soffriamo ancora molto questo stare lontani dal nostro nemico e rimbangare, 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 rimbangare. Venendo invece a un respiro più ampio della pagina delle prossime amministrative, Cristiano, ci sono movimenti e partiti, hai citato l'avvocato Domenico Tanzarella che ha fatto un appello anche allo stesso Partito Democratico che oggi dice no, noi abbiamo già dato, abbiamo già fatto, abbiamo già dato con te, abbiamo già dato alla destra, oggi vogliamo fare qualcosa di nuovo, vogliamo avvicinarci al movimento di Nicola Santoro e Giuseppe Tagliente. Ecco, facendo una panoramica generale di quello che accadrà da qui a qualche mese, come la vedi questa campagna elettorale? Sarà dura? I toni saranno... È una bella battaglia, innanzitutto devo dire che... Quanti candidati sindaci ci avremo? 5, 6, 7, 8, quelli che saranno, poi alla fine i candidati sindaci nascono come niente. Io penso una cosa, che c'è grande confusione sotto questo cielo... Ecco, la confusione è chi giova in questo caso? Se dovesse andare avanti questa... Io penso che gioverà qualcuno, però siccome sono uno scaramantico non lo dirò, però magari te lo scrivo su un pezzo di carta così a maggio vediamo se io avrò avuto ragione o avrò avuto torto. Devo dire una cosa, mi ha meravigliato il coraggio del Partito Democratico di Ustuni e mi ha meravigliato positivamente. Un po' tutti, credo. Ma non lo so. Con chi mi sono confrontato? Una sera erano dal mio geometro e mi hanno dato delle cose di famiglia e mi hanno presentato questo documento che ho letto e ho detto, per la miseria, ma è sicuro che andrà sulla stampa in un primo momento. Poi devo dire che questo loro di staccarsi dalle politiche credo che dipenda anche da un fatto che come me pensano che possono stare anche insieme in maniera... si può stare insieme anche in maniera molto diversa e pensare ad alcune cose che servono alla città. Ma non si può partire insieme mettendo tutto e il contrario di tutto e ancora di più. Perché quando si mettono insieme alcune cose, io ecco, non volevo parlare di alcune cose, però devo dirle perché sono in chiarezza. Io non ho mai firmato un accordo col Partito Democratico. Mai. Io ho detto sempre però una cosa, gli accordi si fanno con le strette di mano perché io mi ritengo in politica una persona seria. Ad alcuni di cui non faccio il nome, dissi state attenti perché questo documento vi manda a casa. Sono stato tacciato di tradimento, di infamia, di questo, di questo, di quell'altro. Allora io faccio l'assessore. Per fare l'assessore, per fare l'amministratore, ho bisogno di alcuni voti che mi garantiscano la maggioranza in Consiglio Comunale per approvare i bilanci e comunque tutte quelle... Certo, certo. Insomma, ci siamo capiti. Allora, se io sono assessore, il voto del Partito Democratico è buono e giusto. Se io non lo sono più, divento traditore, infame, pugnalatore. A me non funziona così. Il voto del Partito Democratico deve fare schifo quando io sono assessore e quando io non lo sono. Altrimenti non è più una questione di Partito Democratico, ma una questione di idee, come dicevo prima, ma è una questione di uomini e di posti a sedere. Ecco, io nella mia vita non farò mai una questione di uomini e di posti a sedere. Se io noto che c'è un interesse nei riguardi della città, fatto bene, io potrei votare chiunque in Consiglio Comunale. D'altro canto dico anche che quando qualcuno, e questo lo sanno tutti in quella maggioranza, si è presentato, aprendo progetti di cementificazione ancora sulle cose, dici, ah ma sa, ma accadrà, ma succederà. Io ho risposto, a me questa cosa fa schifo, mi fa vomitare. Il cemento che si è riversato in questi anni su tutta la costa, su tutta l'entroterra, su tutta la campagna è distruzione, non è un lavoro, è un lavoro per chi guarda a un centimetro dai propri piedi e non alza mai la testa, perché il giorno dopo che sono finiti di vendere le villette a mare, il muratore è rimasto disoccupato, per un anno avrà preso la disoccupazione, il costruttore avrà intascato dei soldi, il proprietario avrà la villa. Bene, dopodiché che cosa succede? Che il proprietario con i tempi che corrono non può più mantenere la villa, il costruttore avrà consumato i suoi soldi e quindi è rimasto una miseria. Tutti quelli che erano diventati manovali non sanno cosa fare, allora che cosa va fatto? Da dove devi ripartire? Devi ripartire da un patrimonio edilizio che è enorme, devi bloccare le nuove costruzioni, è una visione fantastica. Ma basta andare a Gorgognolo, prima di andarmene c'è una cosa che farò, denuncerò tutte le case abusive che sono a Gorgognolo, andrò perfino dal nuovo prefetto che arriva, perché quelle case abusive che sversano in falda devono essere chiuse e abbattute. Quello che hanno combinato a Gorgognolo è vergognoso, è una roba vergognosa, dove non si potrà mai condonare. E io auspicherei, purtroppo non accadrà perché i soldi degli abbattimenti non ci sono, ma andrebbero tutte abbattute e andrebbe ricostruita una parte, almeno quelle abusive, andrebbe ricostruita una parte bellissima del nostro territorio, potendo andarci a passeggiare. Perché quello che si è combinato, lo scempio che si è combinato in questi anni con gli abusi edilizia è stata veramente, veramente la tragedia vera nel nostro territorio. Noi nel nostro appuntamento, Cristian, non parliamo solo di politica, ma parliamo anche di buoni consigli per i giovani che si avvicinano a questo metodo, a questo mezzo di comunicazione, che secondo me ormai è un mezzo di comunicazione, visto quello che accade a livello nazionale, Movimento 5 Stelle e Lega puntano molto la politica sui social, forse risolvendo poco i problemi dei cittadini, però molti giovani si dovranno avvicinare a questa politica, non ci sono più le scuole di partito, ecco il consiglio che dai ai giovani, partendo magari proprio dai giovani ostonesi che comunque sia fra qualche anno si dovranno cimentare nell'amministrazione. leggete in maniera disordinata, non vi fate imporre nulla da nessuno, pensate con la vostra testa, andate in campagna e vedete, guardate, germogliare qualche fiore e qualche pianta, perché prima di ogni altra cosa noi siamo diventati in questa città per l'agricoltura, per i commerci di agricoltura che ci sono stati negli anni, io penso che noi ai giovani posso dire tornate a guardare e soprattutto leggete quello che vi va, quello che vi piace leggere, ma leggete perché è importante, studiate perché è importante, non vi fate chiaramente coinvolgere da nessuno nelle vostre scelte di studio perché la scelta di studio deve essere personale perché altrimenti finite poi per non studiare e fate quello che vi piace fare, fate poche cazzate perché poi le cazzate nella vita si pagano, quantomeno da uno che ne ha fatte tante fatevi dire che è bello farle, ma quando si rimane in piedi perché poi magari alcuni dei miei coetanei non l'hanno potuta raccontare, perché tutti abbiamo personici per strada, allora ai giovani dico sbizzarritevi, cercate però di non farvi male, fate tutto quello che vi piace fare, leggete e studiate e andate in campagna. Di solito io faccio delle domande strettamente personali, però comunque Cristiano, hai parlato della tua ricandidatura, che cosa farai nel tuo futuro, nelle prossime amministrative, hai detto se sarai candidato o se non sarai candidato, quindi non so se vuoi rispondermi nuovamente a questa domanda? Nel centro-destra non unito io non sono candidato, non ho nessuna intenzione di candidare, se Gianfranco Coppola ha intenzione di scendere in campo alle primarie e rinunire il centro-destra è nelle sue capacità e allora io scenderò in campo e mi candiderò. Non so se sarò rieletto, io ringrazio chi mi ha votato e chi mi ha eletto perché è stata un'esperienza fantastica, devo dire che ho raccolto i frutti di tanti sacrifici politici fatti in casa, perché mio zio e mio padre hanno dato veramente tanto alla politica, senza mai chiedere, sacrificando anche in anni difficili, io li ringrazio di avermi dato questa cultura politica, di avermi portato in un partito politico quando avevo 5 anni, sono felicissimo di tutte le scelte che ho fatto, non rinnego assolutamente niente di quello che è la storia della mia famiglia, questo sia ben chiaro e lo dico, ecco questa è una cosa che dico in chiara lettera a tutti, io non sarò mai uno di quelli che sbandiererà l'antifascismo come una dote, perché ognuno di noi ha dei sentimenti, ha nel cuore qualcosa, io ho nel cuore quello che è stata la mia famiglia, quello che è stata l'idea della mia famiglia, per me la politica è stata una grandissima passione e devo dire che lo è ancora e lo sarà sempre, ma sono pronto a lasciare, se loro hanno deciso, parlo di Coppola e parlo dei gruppi che stanno andando all'esterno, se loro hanno deciso di dividersi, di mandare il centrodestra in manore, di mandare tutti i sacrifici fatti per 20 anni per vincere una volta, allora io rimango fermo a quella vittoria, gioisco di quella vittoria, nel segreto dell'urna posso votare per tutti, tranne che per uno, sa che non avrà mai il mio voto, quindi certamente ci sarà un ballottaggio, questo ormai è nei fatti, io resto sulle mie posizioni, sarei stato felicissimo di aver visto la mia generazione fare un discorso generazionale, non vi nego che ci ho provato, ci ho provato in maniera, fino a qualche giorno fa, fino a qualche giorno fa, noi ci sono riuscito, sono nella mia prossima vita, cioè quella che viene dopo, non lo so, dico sempre che il mio sogno è andare, siccome non avendo figli, non avendo nipoti, andare a vivere lontano da qua, però so che anche che difficilmente ci potrei riuscire. La prossima esperienza, un bel viaggio di un mese in Argentina. Faccio una battuta, magari pure la campagna potrebbe essere, no? La campagna certamente, certamente, no, la campagna è nei miei programmi, ma alla mia prossima candidatura loro vanno divisi, io un mese in Argentina. Ok, vedremo quello che accadrà, intanto il Presidente del Consiglio Comunale, nella puntata scorsa, facciamo uno step indietro prima di salutare il Consigliere Continelli, ha detto che cercherà di far quadrato bypassando le primarie, facendo rafforzare questa coalizione di nuovo, nuovamente, intorno a Gianfranco Coppola senza passare dalle primarie. Credo che non sia ormai, forse, più fattibile questa cosa, perché, insomma, la macchina organizzativa sta iniziando a muoversi, di questo forse magari molti se ne dispiacciono, però comunque... Ecco, mi hai lanciato un assist, te l'ha lanciato anche Camassa. Gianfranco, io ti invito ad essere il candidato, non come partito, perché chiaramente lui deve essere indipendente, il candidato alle primarie di Fratelli d'Italia, che io sosterrò alle primarie. Ecco, io lo invito, se questo non accadrà, mio malgrado, io le ho provate tutte per venire il centro-destra, siccome sono un uomo di destra, resto in penchina. Ringraziamo Cristian Continelli di questa bella chiacchierata di questo pomeriggio, noi ritorneremo, come sempre, nella parentesi del martedì a parlare di politica, tanti gli ospiti che arriveranno nel corso delle prossime settimane, amplieremo anche il nostro raggio d'azione, perché le richieste per questa trasmissione sono davvero tante. Un'ultima cosa mi è venuta in mente, perché è una cosa che è accaduta poco fa, candidiamo, e sempre questo per la conoscenza delle aree paludose, candidiamo il Parco delle Dune, con buone possibilità, a un progetto mediterraneo, dell'Interreg Mediterraneo, del futuro interreg, per un finanziamento europeo di quasi 3 milioni di euro. E io penso che questo progetto possa essere importantissimo per quel turismo sostenibile. Mi ero scordato di dirvi questo. Ringraziamo quindi il consigliere Continelli, tanto da dire, lo avete ascoltato, noi ritorniamo, come sempre, martedì e giovedì a parlare alla città, a parlare tramite i microfoni di Ossu di Notizia, non vi nascondo che sicuramente nel corso delle prossime settimane, ringraziamo sempre la disponibilità di Nicola di questo luogo, però nelle prossime settimane ritorneremo con delle nuove trasmissioni, perché la campagna elettorale ormai è alle porte, i cittadini hanno bisogno di essere informati e noi saremo sempre dalla parte dei cittadini, invitando anche a un confronto diretto i vari candidati che ci saranno. Vedremo chi saranno i candidati alle primarie, ci impegniamo di ospitarli su Ossu di Notizia, per parlare appunto di questa competizione che ci sarà il prossimo 10 marzo, credo Cristian, quindi vedremo quello che accadrà. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, restate con noi, restate sempre su Ossu di Notizia, buona serata a tutti e come sempre, alla prossima. Grazie a tutti.